allora salva tutti i colors in teoria questa cosa dovrebbe uscire con un video se sta venendo una live va bene pace a me vorrà dire che salteremo il video del lunedì state e starete ricevendo una piccola anticipazione cosa ho qui il mio tentativo è quello di fare i video sponsor mostrando i video mostrando anche me stesso cosa che col programma che utilizziamo normalmente non potevo fare quindi ci proviamo sperando che venga un video magari se viene bene con l'audio e tutto il resto ci sta che io lo editi quindi lo riscarichi e lo editi allora ho deciso una cosa siccome non sono tantissimi in anni che secondo me meritano la sponsorizzazione oggi non li vedrete tutti se non faccio troppi stravagioni vi tenete anche colpi di tosse nel video e vi prego non fatevi venire l'ansia parlerò anche di questo in un video se volete ma non oggi quindi andiamo con il primo canale ma prima di farvelo vedere devo fare l'esperimento di condividere lo schermo e sperare che voi sentiate il primo canale che voglio sponsorizzare è Agostino Brienza il primo canale che voglio sponsorizzarvi è quello di Agostino Brienza forse ho capito finalmente come si condivide lo schermo il primo canale che voglio sponsorizzarvi è quello di Agostino Brienza non è soltanto perché mi segue sempre sicuramente uno dei motivi ma soprattutto perché fa dei video fuori da ciò che comunemente si vede su YouTube sia per quanto riguarda un pubblico diciamo normalmente maschile anche se ricordiamo che ci sono ragazze a cui piace dei videogiochi e il calcio e ragazze a cui piace toccarsi quindi stiamo lontani dagli stereotipi il canale di Agostino mi piace perché è fatto interamente da riprese con il drone attualmente conta 416 iscritti quindi vediamo di farlo aumentare guardiamo un pezzettino Grazie. Grazie. Andiamo avanti con la sponsorizzazione, sponsorizzeremo in questa puntata, se così si può dire, una coppia di canali come una coppia nella vita e l'ho scelta perché sono dei canali simpatici entrambi, in parte con cose in comune, in parte no, infatti ho deciso che farò vedere un video specifico per ogni canale, ma soprattutto sono dei canali che mi hanno detto espressamente, guarda, siccome noi a volte purtroppo ci sfuggono i video e vorremmo seguire i tuoi, sentiti libero di mandarceli in privato. E guardate che non è da tutti, quindi vediamo se sono bravo con questo programmino. Andiamo con il primo della coppia di canali che voglio farvi vedere. Daniele, DS3, 1130 iscritti però. Magari vi diamo una mano a crescere. Ecco. Molti dei suoi video sono corti, perciò se non vi piacciono i video lunghi, direi che questo è il canale giusto. Questo qui è molto corto, quindi direi che possiamo vederlo tutto insieme. Molto. Ok. 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 Ecco, avevo sottovalutato la cosa del linguaggio colorito, ma tanto è evidente che purtroppo questo video dovrebbe essere editato grazie alle persone che erivano con me, si fa per dire. Quindi editing per editing. E finiamo con l'ultimo canale per oggi, ossia per questa puntata di sponsor. Se volete essere sponsorizzati, non me lo dovete chiedere apertamente, ma semplicemente seguire il mio canale. Possibilmente tutti i video, o quasi. Ecco. Vediamo se sono diventato ancora una volta un esperto dello schermo anche per questo ultimo canale di oggi. L'ultimo canale di oggi è il mondo di Daniele 92, compagna di Daniele, con gli iscritti nascosti. Ma va bene, non ci interessa. E guardiamo un pezzettino dell'ultimo video, così poi guardo e commento pure, ci parla, o meglio, ci spacchetta una piccola box dell'applicazione Too Good To Go. Ciao a tutti, oggi vi mostro il contenuto di questa box di Too Good To Go. Il supermercato si chiama Maxi e questa box è costata 3 euro e 99. Allora, iniziamo, ci hanno dato questi spinaci, poi ci hanno dato Danacol, questo qui bianco. Bene, se volete scoprire tutto il contenuto della box di Too Good To Go, non vi dovete fare altro che andare sul canale di Daniela. Cosa che, per inciso, farò pure io una volta terminato questo video, ma, visto che tanto ormai devo editarlo, perché io ho fatto casini, quindi mi hanno fatto casini o quant'altro. Intanto vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscriverti al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E, se volete partecipare al video di Natale, fate un regalino dalla wishlist qui sotto in descrizione. Ciao! 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 Grazie.